Ciao, sono della nuova generazione cantautori, quella che non va a dormire prima di mezzanotte e che vuole imparare nuove canzoni, respirare nuove sensazioni, dando uno sguardo al futuro e catturiamo canzoni che vengono piano nel letto prima di dormire con noi e ci facciamo le ossa ascoltando i dischi di battisti, repertori vecchi e nuovi artisti e diciamo che sappiamo scrivere meglio di loro, meglio come non mai Ciao, sono della nuova generazione cantautori, quella che scriverà per non perdere il ritmo e nella notte compone nuove canzoni come tuoni ed esplosioni pensando a Bagi e Tu e ci facciamo il caffè la notte convinti che la canzone che scriveremo sarà la meglio di tutte la più bella e nel meglio sarà meglio come non mai e ci scordiamo dei dischi di battiato, repertori vecchi e nuovi artisti e diciamo che sappiamo scrivere meglio di loro, meglio come non mai Luana � Ascoltan Ascoltan Aprile Aprile Ascoltan Compar Die Grazie a tutti